Ciao a tutti ragazzi, sono Antonio dell'Italia, mi trovo in Australia sulla Great Ocean Road, ci troviamo in un alloggio che si chiama Lorn World, siamo come vedete alle mie spalle nella stanza Malibu, ogni stanza è a tema, c'è la stanza Thailandia, la stanza Hawaii, sono delle stanze davvero molto carine, molto country, ben fatte davvero, non hanno badato a spese per realizzarle, nella stanza potete trovare il frigorifero, una piccola cucina per poter cucinare, tutte le stoviglie necessarie, stanze con più letti, quindi potete condividere la stanza, dalla finestra c'è una bella vetrata davanti alla stanza, potete vedere parte della spiaggia e la località è molto simpatica, a due passi avete un beer shop, potete comprare delle bevande oppure lungo la costa ci sono dei negozietti dove comprare souvenir o qualsiasi cosa vi serva, che dire, provate a vederlo, è un posto molto carino, suggerisco.